Questi bastardi devono pagare perché ciò che hanno fatto lo devono proprio pagare. All'ABC, il segretario di Stato americano ha parlato di enormi prove a disposizione. Noi sosteniamo dall'inizio che il virus è originato lì, ora l'intero mondo può vederlo. Le accuse di Pompeo piovono mentre sui media internazionali filtra un rapporto degli 007 della Five Eyes, nel quale si punta il dito contro Pechino per aver mentito sull'origine del Covid-19. Nel documento di 15 pagine, la coalizione dell'intelligence americana, inglese, canadese, neozelandese e australiana descrive i tentativi iniziali del regime di minimizzare il virus, cercando di insabbiare le tracce tramite la censura. Già agli inizi di dicembre, sostiene il rapporto degli 007, la Cina sapeva che il virus poteva essere trasmesso da uomo a uomo e aveva iniziato a limitare le ricerche online sulla nuova misteriosa polmonite. Questi bastardi sapevano tutto e hanno insabbiato tutto, ma la devono pagare se c'è una giustizia. Bastardi!